Per creare un tabellone che si possa facilmente piegare e diventare un formato A4, si dovranno incollare tra di loro le pagine appena stampate. Quindi si dovranno incollare la pagina 1 con la pagina 2, la pagina 1 con la pagina 3, la pagina 3 con la pagina 4, la pagina 4 con la pagina 6, la pagina 6 con la pagina 5, la pagina 5 con la pagina 7 e la 7 con la 8. In un certo senso si crea una cerniera centrale e poi si incollano in modo alternato le altre pagine. Si parte a piegare la pagina 8 sopra alla pagina 7, poi la pagina 7 sotto alla 5. Quindi si piega la pagina 5 sopra alla pagina 6, con anche tutte le pagine inferiori ovviamente. La pagina 6 si piega sotto alla pagina 4. La pagina 4 si piega sopra alla pagina 3, la pagina 3 sotto alla pagina 1 e infine piegheremo la pagina 2 sopra alla pagina 1, ottenendo un tabellone supercompatto. La pagina 5 sopra alla pagina 6, la 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 pagina 6, Grazie a tutti